Un saluto dall'Etigi della Mobilità, il gruppo FS e Roma Capitale hanno presentato i progetti che si sono classificati ai primi 5 posti del concorso di progettazione per la riqualificazione del nodo di termini e di piazza dei 500. Obiettivi del concorso, piena integrazione della stazione Termini nel contesto urbano, trasformazione della stazione in uno snodo efficiente di mobilità integrata, creazione di connessioni ciclopedonali sicure e continue, poi ancora la razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico locale, ottimizzandone la presenza proprio su piazza dei 500. Maggiori dettagli su questo concorso, sono su comune.roma.it